Tecnico Minichini, perché è stata una partita, dicevano un po' tutti i protagonisti con il nostro microfono, molto condizionata dalla situazione del terreno di gioco, le chiedo quanto è contento lei? Ma insomma giocare contro il Pescara, che è una squadra che è stata costruita per fare un campionato di vertice, ho un grande rispetto sia dell'allenatore, sia della società, che ha delle tradizioni importanti, sia del gruppo di giocatori di cui è formata. Effettivamente è vero, il campo qui non permette tanto di giocare, è stata un po' una partita sporca, dove abbiamo giocato molto sulle seconde palle, su duelli, perché noi su questo campo ci veniamo solo la domenica, quindi anche noi è come fossimo fuori casa, ci alleniamo tutta la settimana sul sintetico e la domenica veniamo a giocare qua. Quindi anche noi incontriamo delle difficoltà, quindi a volte tocca fare di necessità virtù, magari andare più in verticale per cercare di prendere seconde palle e sviluppare il nostro gioco. Ecco, le chiedo se ha ringraziato un po' anche un pizzico di buona sorte su quelle occasioni che ha avuto il Pescara, soprattutto quella di De Socus nel primo tempo, dove forse proprio il terreno di gioco ha levato la palla dall'angolino basso, o più dispiaciuto per non aver concretizzato i dieci minuti finali in superiorità? Sì, è una bella domanda, anche noi abbiamo avuto un paio di opportunità nel finale con Della Pierra, con Carlini, però è anche vero che ci sono ripartiti in contropiede, soprattutto su angoli a nostro favore, sono ripartiti bene e lì abbiamo commesso degli errori noi, è stato bravo il Pescara a sviluppare velocemente queste ripartenze, ma noi dobbiamo essere più attenti e soprattutto non concedere appunto le marcature preventive, devono essere fatte molto molto meglio. Le chiedo un'ultima cosa, questo cambio di sistema di gioco con Di Paolo Antonio tra le linee, è dovuto anche a quanto è successo in sede di mercato ieri e all'assenza per squalifica, oppure ci stava già lavorando? No, all'inizio del campionato giocavamo così, dopo abbiamo avuto molti incidenti sugli attaccanti, molti attaccanti infortunati, quindi abbiamo cambiato per cercare un po' di solidità, abbiamo fatto anche dei risultati, adesso insomma che c'è stato, come sapete, dei problemi all'ultimo momento, insomma, questo mercato ci ha portato via Cancellieri, l'unico terzino che avevamo, sinistro, perché di Renzo è infortunato, quindi ho deciso di passare a questo modulo per cercare di avere più solidità in mezzo con questo rombo e avendo due punti per poter impensierire il Pescara. Non siamo riusciti, una volta nell'intento, vuoi per la bravura dei difensori, vuoi per qualche imprecisione nostra, anche dovuta, come dicevamo prima, al terreno di gioco che, visto da fuori, può sembrare una cosa, ma dentro vi garantisco che è difficile giocare con palla a terra.